Alla fine l'appuntamento è al verano. 28 ottobre, ore 11. La grande sfida della fascisteria romana più intransigente, dopo il passo indietro di Forza Nuova, che ha ceduto al diktat del Viminale, nessuna marcia su Roma nell'anniversario di quella vera, sarà una cerimonia funebre. Nulla di nuovo sotto il sole. Il fascismo come religione della morte. Succede ogni anno, con cadenza semestrale. La festa è in cimitero. È certo paradossale che si celebri la nascita del regime in un cimitero, con l'omaggio ai caduti della rivoluzione. Più è ovvio che succeda il 28 aprile. La morte del fascismo che si consuma con l'esecuzione capitale del suo fondatore, il duce e il rito tribale di Piazzale Loreto. Da qualche tempo, a Milano, la commemorazione dei caduti della Repubblica di Salò, al campo X del cimitero monumentale, è diventata il modo dei fascisti di controcelebrare il 25 aprile fino al divieto della prefettura di quest'anno, e alla provocazione di lealtà azione e Casapond che proprio il 28 aprile, con un blitz, hanno invaso l'area occupata dalle tombe dei fascisti per il rito del presente. mille braccia tese e un grido per confermare il legame tra morti e vivi nella lotta. Anche a Roma, fino a qualche anno fa, l'anniversario della strage di H. Larentia, due neofascisti uccisi dalla guerriglia rossa, uno dai carabinieri, era stata l'occasione per una grande manifestazione unitaria. Un lungo corteo silenzioso con migliaia di fiaccole accese a ricordo dei caduti degli anni di piombo.